Buonasera a tutti, come vi è stato già anticipato ho rimesso il mandato che mi era stato conferito dal Presidente della Repubblica, Mattarella, di formare il Governo del Cambiamento. Ringrazio il Presidente della Repubblica per avermi conferito il mandato il 23 maggio scorso e ringrazio gli esponenti delle due forze politiche, Luigi Di Maio per i 5 Stelle e Matteo Salvini per la Lega, per aver indicato il mio nome. Vi posso assicurare di avere profuso il massimo sforzo, la massima attenzione per adempiere a questo compito e vi posso assicurare di averlo realizzato in un clima di piena collaborazione con gli esponenti delle forze politiche che mi hanno designato. Grazie a tutti.